Nella ricerca scientifica basta crederci, al di là dei mezzi e della disponibilità economica, negli Stati Uniti succede, in Italia ancora no. Ci sono però cervelli in fuga che ritornano, per fortuna, senza di loro saremmo forse un po' meno tranquilli. Lui Antonio Mazzocca, classe 1965 di Barletta, ha lavorato tanti anni in America, tornato in Puglia, ha identificato un nuovo meccanismo che sostiene il processo di formazione del cancro al fegato. Guarire dice, si può. Quello che noi abbiamo identificato è un meccanismo molecolare di malattia e in particolar modo il perno di questo meccanismo è l'aver identificato un recettore che è una molecola proteica, una proteina presente sulla superficie cellulare che trasmette all'interno della cellula in maniera disregolata un segnale di crescita e quindi la cellula prolifera. All'aver identificato questo meccanismo significa che noi ora possiamo, abbiamo la potenzialità di poterlo bersagliare in maniera selettiva, quindi quello su cui stiamo lavorando lavorando è l'identificazione di nuove molecole farmacologiche che possano in un certo senso bloccare il recettore e quindi arrestarne la crescita. L'epatocarcinoma, secondo alcuni studi, è purtroppo in netto aumento, bisogna intervenire al più presto. Entro il 2030 risulterà essere addirittura la terza causa di morte per cancro negli Stati Uniti, quindi addirittura sul classando quelli che sono tumori, i cosiddetti big killer come la mammella e la prostata.